140 partecipanti per 7 percorsi formativi hanno preso il via ieri con un incontro preliminare presso la sede della comunità montana Bussento Lambre e Mingardi a Futani, i corsi di qualificazione per operai idraulico-forestali specializzati indetti dall'ente e affidati al centro di formazione professionale DAFOR dopo l'espletamento di una procedura di gara. I corsi per cui si erano tenuti nei mesi scorsi gli avvisi di selezione puntano alla formazione di diverse figure specifiche, addetto alla cura e manutenzione del paesaggio e alla tutela del patrimonio forestale, addetto alla conduzione e gestione di macchinari e attrezzature forestali, addetto ad attività di ingegneria naturalistica per la manutenzione e tutela del territorio, addetto al servizio antincendio boschivo. Una speranza di occupazione per diversi, giovani e meno giovani che hanno deciso di seguire il percorso per ricevere poi la qualifica professionale riconosciuta dalla regione Campania è spendibile su tutto il territorio nazionale. Per il momento si tratta solo di preparazione, nessun posto di lavoro certo è in vista, come è stato chiarito ai partecipanti nella mattinata di ieri, ma qualche spiraio ci potrebbe essere. Questo è un investimento che facciamo sulla formazione, il culmine di un'attività programmata da circa un anno, ha detto il presidente della comunità montana Vincenzo Speranza. Tutto questo in vista del rinnovo della forza lavoro che si prospetta per i prossimi anni. Tutti avete sentito che c'è da parte della regione Campania una volontà di puntare sul settore forestale con un piano che prevede anche delle assunzioni. Una prospettiva quindi c'è, tutto dipende in primis dalla regione. Quello che stiamo facendo, ha concluso Speranza, è una parte di questa prospettiva che vi consentirà in futuro di avere una possibilità concreta di occupazione determinata anche dalle vostre singole capacità. Grazie.